Ciao, oggi vi propongo questa canzone di De Gregori generale. Andiamo a vedere quindi gli accordi che occorrono per realizzare questo arrangiamento. Iniziamo dall'accordo di Sol maggiore, preso però con il secondo, terzo e quarto dito, lasciando libero il primo dito, l'accordo di Do, l'accordo di Re settima e poi abbiamo due accordi che sono Do al primo rivolto con il basso però Re e il Re sempre primo rivolto con il basso sempre Re. Iniziamo con l'indice e il medio che suonano la terza e la seconda corda facendo questa acciaccatura tra Si e Do, l'accordo di Do. Abbiamo una percussione. Andiamo avanti suonando ancora il Do da solo in levare sul secondo movimento, utilizzando il mignolo con il Re, terzo tasto seconda corda. Rivediamo tutto da capo. Andiamo avanti suonando il Do in levare sul secondo movimento. In questo caso Si e Do è suonato con un hammer on e poi di battuto libero, quindi sarà così. Mentre il Sol continua a suonare in questa maniera. in questa maniera. Ok. Andiamo avanti con l'accordo di Sol. Quindi di nuovo lo stop. In levare sul secondo movimento la nota Sol sul terzo tasto della sesta corda. E anche in questo caso si suona il Do, quindi diventa un Sol quarta, il Do con l'indice. Si ricomincia il riff identico all'inizio, solo che abbiamo la nota Sol che deve continuare a suonare dalla battuta precedente. Quindi bisogna tenere presente di tener fermo bene il Sol mentre si muovono le note Si, Do, Si. A questo punto suoneremo le note Sol, La, Sol con hammer on e il Re che invece è legato e poi si ribatte. Tenendo ferma la nota Sol. Poi faremo questa posizione di Re7. quinto tasto Re con il secondo dito, quarto tasto Fa diesis con il primo dito e quinto tasto Do con il terzo dito. tutto il passaggio. A questo punto facciamo due triadi. quindi il Do all'ottavo tasto con il basso però Re e a chiudere l'accordo di Re con il basso Re. Grazie. bene spero sia tutto chiaro se avete qualche dubbio o qualche domanda potete iscrivervi tranquillamente su messenger o sul mio canale youtube bartoli roberto io vi aspetto al prossimo video ciao